benvenuti a radio italia music week il tg della musica italiana insieme a me daniela cappelletti ci siamo fermati lo scorso weekend perché c'era radio italia live il concerto al foro italico di palermo però sono tornata vi racconto le notizie più importanti degli ultimi sette giorni non siamo a colonio monzese ma al bravo alimini in puglia partiamo dopo aver chiuso alla grande il nostro radio italia live il concerto con un ninno urlando contro il cielo in settimana ligabue ha tenuto il tredicesimo concerto della carriera a san siro ma non è l'unica novità che riguarda luciano è perché ha svelato che il nuovo disco dedicato a noi uscirà il 22 di settembre facciamo così restiamo idealmente al foro italico di palermo con due super protagonisti sto parlando di rama e dircomi venerdì hanno lanciato il loro joint album si chiama no stress e dentro ci sono dieci canzoni tra cui il singolo hollywood che hanno proposto anche al concerto a palermo e anche il duetto con g u e con gue si chiama sexy sempre a palermo si sono esibiti anche i bunda bash che hanno annunciato qualcosa di grosso per il 14 di luglio oltre al loro nuovo album si chiama venduti uscirà anche questa collaborazione super attesa con emma nel brano graffiti ultimo è impegnato con il suo tour negli stadi da pensate 300 mila biglietti venduti nicolò guarda già il domani però perché l'otto giugno del 2024 sarà protagonista di un concerto a napoli allo stadio maradona come dice spesso lui la favola continua nel 2018 fredde palma e anamena ci avevano fatto ballare con la loro d'estate non vale ok smetto di cantare nel 2019 invece avevano fatto ancora meglio con una volta ancora una hit da sette dischi di platino in italia e cinque in spagna ora ci riprovano per la terza volta la loro melodia criminale uscita venerdì sarà un altro tormentone radio italia music week cioè il tg della musica italiana insieme a me daniela cappelletti anche per questa settimana è finito abbiamo esaurito le notizie però torniamo la prossima e se volete sempre restare aggiornati su tutte le info musicali c'è il nostro sito radio italia.it ciao 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 Sto ancora impazzendo di te